vado meglio si dai oppure anche si allora se lasci finisci subito ma poi la più vibrazione portale lui è la parte bravo, bravo, bravo non solo a destra solo a destra non è perché la mano è che la scollata fa non è niente di più a me la mano è tutto molto bello signori